come ci siamo detti da un po di tempo cercare il signore non lo si fa assolutamente solo con le parole bisogna anche rimboccarsi le maniche la chiesa ci ha suggerito tanti modi ad esempio le opere di misericordia oggi ricordati di quella che è la quarta delle sette opere di misericordia spirituali ovvero consolare gli afflitti è possibile infatti che tu conosca qualcuno che sta attraversando un momento non facilissimo e sia anche triste o sconsolato beh è il momento di andare da quella persona e fargli capire che gli sei vicino e lo aiuti grazie